La scatola, due! Gigi! Gigi! Oh! Gigi! Gigi! Sì, Matteo è in campo, ora sta giocando, devo chiedere anche a lui, infatti vabbè, posso spiegare tutti e due, ma io la figlio a Matteo e poi ho pianificato, se no dicevo se te prendi loro, io prendo Matteo, a casa prendo documenti e poi vengo a te, sennò un po' ora potrò più, ah, ma vedo Matteo ancora in campo, non so, c'è ancora un buon ventuglio minuti, dai io ascolto la sentita, io appena, intanto penso di essere lui alla fine, almeno chiedo Matteo se c'è il documento, io devo aspettarmi qui, almeno metto a fare la voce ma spieghi un'eita niente, dai, ciao! Si vede? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.